In questi mesi siamo stati costretti a vivere rinchiusi dentro quattro mura. Ma qual è la nostra vera casa? La terra. Il nostro posto, unico come una gemma preziosa. Abbiamo un'opportunità per creare un mondo migliore e per tornare a contatto con la nostra essenza, la natura. Possiamo finalmente rendere la nostra vita libera e magnifica. Sognare è semplice. Crederci è difficile. Metterlo in pratica lo è ancora di più. Ma alla fine della giornata, la scelta è solo nostra.